Capitolo terzo In macchina, Libero e Minnie parlano molto Benvenuta in Italia, Minnie Ora andiamo a casa Io abito con 3D Coppe e 7Bello Loro sono come due bambini Sono molto simpatici Mi piacciono i bambini Allora sei sposato? No, 3D Coppe e 7Bello Sono come bambini Ma non sono bambini Non capisco Aspetta un momento Tra poco arriviamo a casa Dopo un po' Libero e Minnie arrivano a casa Subito due grossi gatti vengono verso di loro Miau Miau Questi sono 3D Coppe e 7Bello Ah, sono gatti, che belli Vedi, quella è la loro camera Per le fotografie? No, camera significa stanza Minnie, questa è la tua cam... La tua stanza È silenziosa E il letto è grande e comodo Le lenzuola sono nuove Nove? Sono molte Nuove, non nove Il bagno è in fondo a destra La luce è subito a sinistra Per aprire l'acqua calda gira a destra Per aprire l'acqua fredda gira a sinistra Tutto chiaro? E mio asciugafaccia? Asciugafaccia? Ah, si dice asciugamano È quello bianco a fiori Ah, è quello bianco là fuori, va bene Questo è il detergente per fare il bagno Se hai un problema, io sono di là Libero esce dalla camera, ma subito dopo Il deter... come si chiama? Il deter... scusa Libero, dov'è il detersivo? Perché hai bisogno del detersivo? Per fare il bagno Per fare il bagno devi usare il detergente, non il detersivo Con il detersivo fai i piatti Fare i piatti? Che significa? Fare i piatti, lavare i piatti Ah, capisco, dice Minnie Poi pensa Fare i piatti significa lavare i piatti Allora, fare il bagno vuol dire lavare il bagno Ah, forse devo lavare il bagno Dopo 40 minuti, Minnie è ancora in bagno La porta è chiusa Libero bussa E domanda Tutto bene, Minnie? Che fai? Faccio il bagno, non puoi entrare Ok, entro quando sei vestita Adesso sono vestita Minnie, fai il bagno vestita? Sì, al mio paese sempre Ma che dici? Libero entra in bagno C'è un profumo molto forte Il bagno è tutto pulito Minnie sorride Guarda, Libero, è tutto pulito Adesso puoi anche mangiare in bagno Minnie Minnie, in italiano fare il bagno significa lavarsi Si dice anche fare la doccia, fare lo shampoo Ah, davvero? Sì, va bene, non importa A che ora vuoi fare colazione domani mattina? Devo preparare la colazione per te? No, fare colazione vuol dire mangiare la colazione Minnie, io vorrei fare colazione con te domani mattina Bene Anch'io domani faccio colazione con te Oppure caffè Buonanotte Buonanotte Adesso Libero sa che la sua amica non capisce molto bene l'italiano E' la sua amica non capisce molto bene l'italiano Come a fare colazione con te domani mattina Buonanotte 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 Buonanotte